Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di oggi ha visto un inizio ancora grigio e perturbato, maggiori schiarite nel pomeriggio sulle aree pianeggianti. La situazione meteorologica nel weekend vedrà ancora la variabilità protagonista anche se avremo un leggero miglioramento. La giornata di sabato inizierà con nuvolosità sparsa e qualche breve rovescio sulle pianure centrali. Nel pomeriggio le schiarite saranno ancora attive su Ferrarese e parte della Romagna, soprattutto a ridosso delle aree costiere, mentre altrove qualche rovescio non sarà da escludere, soprattutto sulle miglia centrale. Rovesci che localmente saranno accompagnati da temporali. Per quanto riguarda l'aspetto termico avremo valori minimi compresi tra 12 e 15 gradi. Valori massimi invece lieve aumento e compresi tra 18 e più 23 gradi. Ventilazione debole, mare poco mosso. Giornata simile anche quella di domenica. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini.